L'amore tra Cetin e Gulten è un amore puro, pulito, tra due ragazzi timidi e buoni. È un amore fatto di sguardi e pochi incontri, anche perché le famiglie per cui lavorano sono nemiche, il che rende difficile il loro avvicinamento. Questi che vi raccontiamo sono fatti che succederanno durante la terza stagione di Terra Mara e a fine video vi dico anche quando andranno in onda in Italia. Dovete tenere presente che in queste vicende sono già venuti a mancare due personaggi molto importanti della serie. Ma torniamo alla storia tra Cetin e Gulten. Cetin si era concretamente avvicinato a Gulten durante un matrimonio, dove vedendola radiosa nel suo vestito della festa aveva trovato il coraggio di avvicinarla e dirle che era bellissima rendendola felice. Da quel giorno avevano iniziato ad essere uno nel cuore dell'altra e i loro avvicinamenti e il loro corteggiamento avevano seguito i rigidi canoni tipici di quell'epoca, gli anni 70, in un piccolo paese rurale della Turchia. Purtroppo, però, quello che doveva essere il normale sviluppo di una storia d'amore così bella era stata drammaticamente interrotta dalla cattiveria di Erjoumen. Erjoumen, nipote di Unkar, abbagliato dalla bellezza di Gulten, l'aveva violentata, rovinandole la vita e ricoprendola di vergogna. Gulten, distrutta da quello che aveva subito e convinta di non meritare l'amore di Chetín, lo aveva respinto in tutti i modi, ma non riuscendo a dirgli il motivo. Chetín, però, consapevole che lei provava dei sentimenti nei suoi confronti e per capire il perché del suo comportamento l'aveva rapita, quindi le aveva ripetuto di amarla e le aveva chiesto di sposarlo. Lei aveva continuato a rifiutarlo e allora Chetín, intuendo che le fosse successo qualcosa, era riuscito a farsi confessare la violenza subita. Chetín, pur sconvolto, le aveva assicurato che per lui non cambiava nulla, che l'amava e che la voleva sposare. Gulten, però, sopraffatta dalla vergogna, aveva rifiutato perché sapeva di essere disonorata davanti alla società e quindi non si riteneva degna di lui. Poco dopo Gulten arriva persino ad accettare di fidanzarsi con un uomo anziano con tre figli, ma Chetín, che non si era mai rassegnato, era riuscita ad impedirlo, andando anche in prigione. Ed è proprio qui che durante un colloquio lei gli aveva confessato di amarlo e gli ha detto che lo avrebbe aspettato per tutta la vita. Finalmente, dopo tante peripezie e una lunga attesa, è arrivato il giorno del matrimonio di Gulten e Chetín. È una bella giornata di sole e alla villa è stata organizzata una grande festa in giardino con tanti invitati. Zuleya, felice per la sua amica che finalmente può coronare il suo sogno, fa gli onori di casa. Accoglie molto cordialmente Chetín, che è molto elegante e bello nel suo completo da sposo, ed è accompagnato da Fekeli, che giunto alla villa guarda con nostalgia e dolore la finestra della camera di un car. Nel frattempo Gulten, nella sua casa, si è preparata ed è splendida in un bellissimo abito bianco. La sua vita è circondata dal tradizionale nastro di raso rosso e sul capo ha un velo che le copre i capelli. Sanye è emozionata nel vedere la ragazza che lei ha cresciuto con amore diventare una sposa e ringrazia Dio per averle dato quella gioia. Gulten la abbraccia e la ringrazia per tutto quello che ha fatto per lei e si commuovono esprimendo il loro reciproco affetto. Ma Sanye le dice che hanno pianto abbastanza ed ora devono solo essere felici. Anche la piccola Uzum, che è stata adottata da Sanye e Gaffur, è eccitatissima e fa tante feste a Gulten. Nella casa arriva Zuleia, che guarda Gulten e anche lei le dice che è molto bella e le augura di essere per sempre felice. Irrompe nella stanza Gaffur, che come la vede rimane sbalordito e si emoziona fino alle lacrime e le dà la sua benedizione. Nel frattempo, fuori casa di Gulten, è arrivato il corteo nuziale con lo sposo. Fecheli e i tradizionali danzatori al suono dei tamburi che sono pronti per accogliere e scortare la sposa. Chetin entra in casa emozionato come non mai. Uzum, come lo vede, gli fa promettere di non farla mai soffrire, mentre un'amica di Gulten gli dice che è fortunato perché sta per sposare la più bella ragazza di Chukurova. Gulten esce dalla sua stanza e sembra che è talmente bella da lasciare Chetin senza parole. Poi, insieme, escono dalla casa felici e sorridenti e sono accolti da tutti gli invitati che si mettono a ballare per festeggiarli. Purtroppo, a tanta felicità, fa da contraltare la tristezza di Fadik, che, anche lei vestita da sposa, si doveva sposare quel giorno insieme a Gulten e ad altre coppie. Purtroppo, il suo fidanzato non si è presentato e nessuno riesce a trovarlo. Zuleya la consola dicendole di non disperarsi perché incontrerà l'uomo giusto che non la farà soffrire e lei le organizzerà un grande matrimonio. Intanto, Gulten e Chetin sono giunti davanti alla villa, dove sono accolti da Demir e Ammin, che, tra lucidità e vaneggiamento, fa un discorso a favore delle donne e dei loro diritti rispetto agli uomini. Demir e Fekeli ricordano con nostalgia un car e convengono che Zuleya onora il suo ricordo ed è diventata la signora della villa. Infatti, Zuleya tiene un discorso nel quale ricorda come un car ogni anno organizzasse una festa per il matrimonio delle giovani coppie e che quella festa è in suo ricordo, quindi dal via per l'inizio della cerimonia. Sanye e Gaffur si guardano negli occhi ed entrambi hanno gli occhi lucidi e sono molto emozionati, mentre guardano la loro Gulten. Uzum, che se ne è accorta, cerca di consolarli e allora la abbracciano felici di averla con loro. Gulten e Cetin si siedono al tavolo del matrimonio con Fekeli e Zuleya che sono i loro testimoni e con l'officiante che alla domanda di Rito entrambi dicono di sì con il sorriso sulle labbra e firmano il registro dei matrimoni. Poi Cetin solleva il velo dal viso di Gulten e la bacia in fronte. Finalmente sono marito e moglie. Fadik con grande tristezza li guarda dalla finestra della sua camera. Poi inizia la festa e i balli e i canti si protraggono fino a sera tra la gioia di tutti. Si unisce anche Fadik, decisa a dimenticare chi l'ha ferita. Alla fine della serata, Gulten e Cetin sono salutati da tutti con affetto, in particolare da Zuleya e Demir che regalano loro i tradizionali bracciali d'oro e le monete d'oro augurando tanta felicità. Fekeli, nel fare loro gli auguri, ricorda l'assenza di Unkar e Ilmas per colpa del destino e augura loro di essere felici. Finiscono così queste anticipazioni, questo matrimonio tra Gulten e Cetin che ha fatto faticare i due protagonisti che ci hanno messo anni dopo il primo sguardo per poter coronare il loro sogno d'amore. Come avrete capito, alcuni personaggi della serie non ci sono più, ma di questo parleremo più avanti e capiremo il perché. Intanto il matrimonio di Gulten e Cetin andrà in onda, sicuramente in Italia, dopo l'estate, quindi nell'autunno 2023. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e se non lo avete già fatto, attivate le notifiche così da non perdervi i nostri video. Come sempre io sono Stefania e vi aspetto nei commenti, vorrei sapere cosa ne pensate di questo matrimonio e delle svolte che la trama prenderà.